Largo ai giovani. La 64esima edizione della MIG, la mostra internazionale del gelato andata in scena nel weekend a Longarone Fiere, tra le varie novità presentate, ha mostrato una particolare attrazione per i giovani artigiani del gelato. Dei gelatieri presenti, il 52% aveva tra i 21 e i 35 anni. Tra loro spicca Vanessa Piantari di Campo Nogara, Venezia, che ha vinto la Coppa d'Oro e pure il trofeo Under 32. Vince due premi, è assolutamente emozionante, poi il primo non me l'aspettavo, quindi si vede, credo, l'emozione, niente, ringrazio tutti. Ma tra i padiglioni non è mancato anche il qualche storico partecipante che ha mostrato di apprezzare la svolta intrapresa dalla fiera nel segno della naturalità. Può essere classificata come una nuova ripartenza sicuramente. Purtroppo non ho potuto per ragioni che non sto a spiegarvi essere presente, ma sicuramente appena finita questa edizione mi metterò in lista subito per la prossima edizione.